A tutti i miei pericoli, già abbiamo a qualche punto trovato un'attesa di importanza e d'altro elemento di dover, non ribadisco il soggetto, gli assessori oggi tutti i presenti con la parte dimostrano che vogliono partecipare al dibattito politico per dare a voi, poi io non vado a fare sulle votazioni, per dare a voi tutte le insoddisfazioni sono necessarie per chi spogge, chi non viene il ruolo dell'opposizione, evidente che ci possiamo dare delle regole per un'attesa di un positivo dibattito, quindi visto che c'è stato già un interato intervento dei consiglieri di oggi e dei consiglieri, io chiedo intanto di rispettare una cronologia almeno del regolo. Allora, se la vuole su questo, allora così, se lei la vuole su questa questione personal, io sono costretto a dare l'attesa. Ora, se lei invece, se lei invece, con le condottonate, con queste caught upentrine, a dare un dibatto pulito a quest'aula, allora io richiedo la gentilezza di dare prima la parola a chi non ha parlato e poi se è in questione personale, allora consiglieremo, ma non è un interno di te, io non voglio, io voglio collaborare, tu sai quando ho parlato con il figlio di Presidente, però se stamattina tu hai voluto mettere questa innovazione, devi aggiungere anche la responsabilità e i lavori non vengono sconti molto prima, perché quando tu vai a prendere l'assessore, che poi ti oltre un'altra valenza, adesso te lo dico a tutti, noi annuncia il proprio lato, questa ha detto una tuta politica, tra l'altro si è accorto che questa è stata una tuta tecnica, benvenuto che subito ci chiamano dati, che non è che la tuta politica è stata una tuta super tecnica, abbiamo tutti i tecnici a fare gli accessori, detto questo che voi ci sono i dirigenti che avete nominato, che dovrebbero rispondere loro, delle attività, dei documenti degli altri, voglio rispondere purtroppo alla sessore mi chiamano, e ovviamente non è che lei si può essere alla fallatina di la cultura, non voglio dire qual è la cultura della decisione, qual è ovviamente la cultura che si fa a arrivare la mia esperanza a ciò che dice, che non ho fatto che il processo, che non viene in campo, che non ha fatto il processo, che non la procedimento, che non va a vivere la mia esperanza, che non la procedimento è una sorta di un processo, che non lo ha fatto la capacità, che non è una situazione, che non è che lei si è una situazione, che non Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.